Aperti o chiusi poco importa, ciò che conta è il segnale atteso da Roma. Gli ombrelloni delle concessioni balneari dei titolari che aderiscono alle sigle che hanno indetto lo sciopero del prossimo venerdì 9 agosto, Siba e Fiba resteranno chiusi fino alle 11 del mattino in diverse zone dell'isola. Non tutti in Sardegna aderiranno alla protesta giustificando la decisione di svolgere l'ordinaria attività con motivazioni diverse e in molti casi si tratta di mancata informazione. Tutte le sigle però concorrono a sostenere a priori ogni singola battaglia o gesto di protesta che potrebbe spronare il governo nazionale a dare le risposte che il settore attende da tempo. ITB Sardegna, rappresentato nell'isola da Francesco Gambella, rimarca la necessità di una legge che metta fine alle incognite sul futuro. A Roma si chiede il rispetto degli impegni presi e l'assunzione di una decisione entro il prossimo dicembre. Le sentenze del Consiglio di Stato e soprattutto l'Europa hanno dato l'ultimatum indicando la scadenza inderogabile delle concessioni il 31 dicembre del 2024. I comuni dovrebbero procedere e collegare, ma con quali regole? I balneari ricordano le promesse del governo Miloni e insistono sulla disponibilità della risorsa, dirimente della direttiva Bolkestein che escluderebbe la Sardegna dalla sua applicazione. Nel frattempo, complice la recente visita del ministro Matteo Salvini sull'isola, ITB insieme a Siba e Fiba hanno incontrato privatamente il leader della Lega per chiedere un intervento immediato. Le rassicurazioni indicano un provvedimento del governo nazionale che dovrebbe essere assunto nelle prossime ore. Rumors da Roma però sottolineano un rinvio sine die di qualsiasi decisione.